no 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 ciao a tutti ragazzi io sono abo io sono Bobojack e siamo i dei abojack statensi siiii e siamo tornati su base a questa nuova ci devono fare 27 punti vediamo altrimenti uno di Bobojack che è morto per te che è morto per te ok ok oh double kill allora non so si double kill che prova vero una provaggine dai facciamo 6 like al prossimo video di Parker ok no ok no ok non vuoi fare più target non c'è visione no ok no 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 17 su 27 altre 10 ecco poi riusciamo a far giune tanto che non vada quindi è vero e però eh 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 pensa per tutto perché di... niente non mi hai fatto si si ma perché si muovono? fai contanto di esso no con le palli di giallo ma praticamente vedi queste cose si si giallo giusto per colpire il prossimo bersaglio per esempio il prossimo bersaglio 1 troppo facile non sta in quella difficoltà si perché si 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 Questa è una parte, questo è lo di inizio. E io, Alberto. E Alberto? Eeeh. Grazie, io è di nuovo a parte seconda. Questa è una parte. Ecco, Bobojek avanza e non ce l'ha fatto. Bobojek avanza, avanza, senza paura. La colpa d'ossiere. Avanza, avanza, distrugge tutto, è a più di dieci, va senza paura, eccolo, ancora lui, ancora lui, di nuovo, spacca tutto. Però non ce la fa spaccare la... 19, intanto è buono. Sì, ma ancora ti manca 8. Per eguagliare, per eguagliare. E quanti non devi solo passare per vincere? Per finire? Uuuuuh. Uuuuuh. Non è che non ho fatto che sperate male. Va bene. Adesso. Ok. Ma ti stanno... Ma ti stanno... Gli stentipatici. Tutti così. 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 Uuuuh. 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 Chi è inizio che non ti spara... È molto qua. Hai fatto che sono limitato. Cioè, io devo divertirsi. Quindi, ecco... E' già abbastanza frustrante. Il fatto che non puoi neanche frenare. sono troppo facile se potessi frenare dovrò avventare se è troppo facile o stile ma giusto nei primi livelli per far definire il primo non ci sono livelli e cosa ne sai cosa ne sai che dopo di questo non c'è tipo la fattoria dello studio cimbi s secondo me e sd testo fermo bobo jack e' tc a 5 per per cento fridon praticamente per i video 5 ma lei era tutto continuo per il suo solo salire il peso di risa che è soltanto questo scenario tante il livello comunque è unico anche se cambia di scenario il livello è unico eh so sarebbe troppo impossibile ma più che altro se mettono di freedom ecco libertà il dito di Boboce sta andando in frantoni per lui siamo meno pausa mai io non arrendono mai dai il gioco un giorno un domani lontano Boboce avanza passato 7 8 9 10 no 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 ma perché che rato uffa eh no 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 faccio due ultimi tentativi e poi ti lascio l'ultimo vediamo se arrivo a 3 voglio tanti like bravolo il consiglio non imitarebbe più basta guarda l'ultimo che è effettivo l'ultimo vivente dell'umanità via ho fatto cinque voglio 5 live con il siena del indirizzo e possiamo superare 27 2 se comunque ci vediamo al prossimo video ciao ciao ragazzi Grazie.